di assistenza e il DM70, con particolare attenzione ai posti letto in oncologia e pneumologia presenti nel territorio tarantino. La ringrazio, Vice Ministro Bellanova. A questo punto, con questa riformulazione, comunque viene accolto 20 Vico favorevole, si va avanti, 21 Labriola viene accolto? Prego, ok. Benissimo, 22 Crippa è favorevole, 23 Ballascas, riformulazione viene accolta? Chiedo ai colleghi del Movimento 5 Stelle se mi danno un segno, va bene? Onorevole, chiedeva se poteva ripetere la riformulazione del Governo? Governo, ci chiede, collega Crippa, se può ripetere la riformulazione del Ballascas 23. A valutare l'opportunità di sentire il Ministero della Salute durante la procedura di cui in premessa. Onorevole, Crippa intende intervenire o va bene? Non ho capito se chiede la parola. Prego. Grazie, Presidente. Su questo tema, visto che il Governo si è espresso in maniera chiara, almeno così come l'ha definito la Vice Ministra Bellanova, un impegno formale, noi chiediamo che a valutare l'opportunità di non ci sia, perché se è un impegno formale non ci deve essere a valutare l'opportunità di. Se lei si è espressa con una presa d'atto e un impegno chiaro e concreto, mi sembra un po' strano vedere a valutare l'opportunità di. La ringrazio. Il Governo intende intervenire? Prego.